Un sistema parallelo rispetto a quello ufficiale delle prenotazioni sanitarie che avrebbe permesso di ottenere ad un dirigente medico di Trani, ad un infermiere in servizio, all'unità operativa di radiologia dell'ex ospedale San Nicola Pellegrino, compensi ingenti ed illegali. Entrambi i sanitari sono stati arrestati oggi dalla polizia con le accuse di concussione, peculato e truffa aggravata. Avrebbero approfittato delle difficoltà dei pazienti ammalati e bisognosi di un'attacca, di una risonanza magnetica o di un esame radiografico per spingerli a pagare somme di denaro e velocizzare i tempi. Una vicenda che fa nuovamente emergere la questione cronica delle liste di attesa nella sanità dal nord al sud del paese. Una situazione che coinvolge migliaia di persone costrette ad attendere mesi per avere la possibilità di svolgere esami spesso fondamentali per la propria salute. Le difficoltà di accesso alle prestazioni sono ancora oggi il tema più segnalato a cittadinanza attiva da parte di cittadini. In particolare le liste d'attesa sono particolarmente lunghe per le visite specialistiche, gli esami diagnostici e anche gli interventi chirurgici. Se consideriamo che oltre il 50% delle segnalazioni arriva proprio per segnalare queste difficoltà. Non valgono a molto anche i codici di priorità che i medici appongono sulle ricette per indicare la priorità di un intervento sanitario poiché queste purtroppo non vengono rispettate. Per cui i cittadini sono costretti ad attendere mesi per avere una visita specialistica o addirittura anni per un intervento chirurgico.